Il Genesis che libera tutto il piano, che immediatamente va a servire allo smarcamento di Calvi che secondo me sfrutta l'incomprensione tra i difensori del Chievo. Poi è bravo ad amministrare la palla e a liberare la porta per il tocco di zero che va in porta. Un primo tempo di sofferenza anche per l'Inter, ma da grande squadra. Sblocca prima dell'Interballo, la tornazione di Mancini, più doppio tocca ma non riesce e in più dire che la palla salita occhino a mezzo alla Cundorpià, Icardi arriva in destinazione. Poi Icardi come sempre lucido, con un tocco a Scamacca di Zari, mette dentro una porta vuota. Tutto in alto da una bella finta di Jovetic, tutto chiuso da Mauri Icardi. Disfortunato Coppio non è arrivato a toccare soltanto di punta e a sforzarla.